sai per dire qualcosa? ok grazie fatevi un applauso perché stasera siete addirittura e se arrivate da Busto siete Bustocchiani grazie veramente di cuore per la partecipazione e per tutta la vostra energia lì c'è una ragazza che gli verrà la tendinite io tesoro Donna Lucertola potrei andare a ripassarla in questi giorni ma adesso come adesso mi ricordo una riga prometto comunque di impegnarmi di più per gli esami a settembre proviamo adesso a raccontare abbiamo parlato di gente magari che lavora dietro le scale, le cucine e così via adesso parliamo invece di quei personaggi che non sono codificabili perché per tutta la vita no non è quello, quello è codificato e come? Giula, sanno tutti chi è, sanno tutti dov'è vi rilascia foto, interviste, vi rilascia autografi, quello ormai è una celebrità stiamo parlando di quell'altro che ancora ora si considera una sorta di figlio di nessuno una sorta di dado che sta ancora girando durante le epoche, Sugamara